Per il nuovo ospedale Tiburtino auspichiamo di poter andare a gara anche nel prossimo autunno. Così ieri il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha la presentazione del cronoprogramma per la riapertura graduale dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dopo l'incendio dell'8 dicembre scorso. Dico sempre che non ci dobbiamo mettere un giorno in più, ma neanche uno in meno di quello che è necessario, quindi dobbiamo lavorare affinché lo si realizzi il prima possibile, ha detto il governatore. È ovvio che se riuscissimo ad avere quest'anno prima dell'estate non solo la progettazione esecutiva ma anche via libera per lo sblocco dei 200 milioni di euro dal Ministero della Salute e se quel terreno individuato dovesse essere confermato, siamo in condizione di andare a gara già in autunno, ha detto Rocca. L'ospedale comunque si farà e abbiamo pronte altre due aree dopo le forti riserve espresse dalla conferenza dei servizi nell'area originaria.